telespettatrici e telespettatori di tv7 ben trovati ad un nuovo appuntamento in compagnia del comitato paralimpico del veneto ben trovato nei nostri studi anche al presidente ruggiero villai presidente nel corso di questa puntata chi andremo a conoscere ho il piacere di presentare questa sera davvero un atleta un grandissimo atleta di vela con le categorie della classe 2.4 e lanza 303 sono due imbarcazioni speciali che credo sia davvero interessante conoscere allora andiamo con il filmato successivamente conosceremo antonio squizzato lo sport è per tutti per coloro che hanno passione e determinazione a superare le spide della vita il comitato paralimpico veneto tramite le società è impegnato a sostenere le persone con disabilità attraverso lo sport i nostri atleti praticano diverse discipline partecipano a competizioni nazionali internazionali e alle paralimpiadi il chip veneto auspica che sempre più persone disabili si avvicinino allo sport scoprendo la voglia di competere e divertirsi ti aspettiamo contateci benvenuto nei nostri studi ad antonio squizzato velista grazie di averci raggiunto grazie a voi buongiorno a tutti allora ne approfitteremo in questo spazio per conoscere una disciplina che magari ai più non è così chiara ma che però è veramente molto suggestiva molto molto particolare comincio chiedendole da dove nasce la sua passione per la vela io ho iniziato a fare vela così per piacere nel nord dell'adriatico in particolare a Lignano dirò che ho iniziato perché mi ha convinto un amico a provare perché era un pochino titubante io ho avuto un incidente quando ero piccolino avevo tre anni ho perso una gamba con un incidente con un trattore i miei agricoltori sono cresciuto ho avuto una vita normale però un pochino di paura insomma di farmi male di non essere capace eccetera ce l'ho sempre avuta questo amico mi ha convinto a provare a salire sulla barca ricordo ancora le emozioni cioè la prima volta salta sulla barca cazza la vela che non è una parolaccia è un termine velico e sentire un mezzo che si muove su un elemento l'acqua grazie a un altro elemento il vento è stata me lo ricordo ancora mi emoziona ancora poi quella volta ero arrivato a 50 metri dalla riva però questo così ho iniziato e questo mi ha fatto anche andare avanti insomma questo non ha più smesso praticamente esatto quando ha capito che poteva cercare di approfondire quella che inizialmente era una passione per farla diventare poi in qualcosa di più quindi farlo anche in maniera agonistica io ho avuto un colpo di una situazione di vien da sorridere perché poi il colpo di fortuna si con una serie di incredibile di sacrifici per me per la famiglia per diversi aspetti come qualsiasi sport agonistico che sia paralimpico o meno insomma però ho avuto la fortuna perché ho iniziato a fare qualche regatina nel sempre nel nord dell'adriatico tra friuli e veneto e ho conosciuto un equipaggio che aveva qualificato la barca per le paralimpiadi di pechino 2008 che aveva un problema con il prodiere che ha dovuto scendere dalla barca e quindi ad alcuni mesi dall'evento ha dovuto cercare qualcuno che lo sostituisse io ho la fortuna di abitare vicino sono stato chiamato io alcuni altri c'è stata una piccola selezione sono riuscito a salire sulla barca a iniziare quel tipo di percorso ho preso tanti schiaffi nelle prime regate all'estero perché non ero abituato un altro mondo insomma dall'uscire per piacere a doversi allenare in modo costante fisicamente attenti all'alimentazione aspetti mentali lavorare in equipaggio insomma tutta una serie di cose però insomma l'adrenalina mi è entrata dentro e da lì non ho smesso da una persona che è nata diciamo facendo quella che poi è diventato su un vero e proprio sport a livello organistico facendolo per piacere non è male essere arrivati come lei a partecipare a tre paralimpiadi e allora le chiedo termine sportivo si dice tanta roba in questi casi no però le chiedo se la ricorda l'emozione della prima paralimpiade intanto se può magari anche ricordarci a che paralimpiadi ha partecipato e appunto l'emozione della prima paralimpiade l'emozione sì indubbiamente anzi il rischio di far fatica ad andare avanti se ci ripenso come dicevo prima c'era questo equipaggio di uguali nel vento di questa realtà bellissima realtà di esolo che aveva qualificato la barca quindi abbiamo fatto degli allenamenti degli appuntamenti internazionali e siamo arrivati poi accompagnati da da angelo da boscolo come tecnico siamo arrivati a pechino dirò che la allora intanto fai fatica un po a capire dove dove arrivi in effetti gestire l'emozione con gli eventi lì non è banale anche perché la comunque la paralimpiade è una regata se è una gara se è diversa dalle altre hai una barca per nazione insomma c'è il clima che respiri le pressioni tutti gli auguri insomma che ricevi per andare e il ricordo sicuramente l'ingresso nello stadio ad esempio a pechino che è stata una cosa incredibile cioè queste luci questo spettacolo questo e lì inizia a capire ok sono uno degli attori e poi va in acqua ed è non è non è banale è folle emozione è forte ma ricordo tuttora penso che me lo ricorderò per sempre sono sono convinto senti alla sua categoria qual è io coro adesso con un singolo il 2.4 ho fatto pechino sono sceso da quella barca e salito come dove facevo il proniere un monotipo da 3 il sonar sono salito su un singolo e pardon sono salito su un'altra barca da tre come timoniere ho fatto londra prima poi sono sceso da lì e ho iniziato un percorso con il 2.4 2.4 è una barca che è presente ad esempio a agli esolo con uguali nel vento è una barca che nasce negli anni ottanta per studiare le barche di coppa america di quegli anni in galleria del vento solo che invece di essere di 16 metri era un po più piccoli 4 metri e venti hanno capito che la persona può stare seduta dentro e quindi da lì è nata una classe quindi un tipo di barca e un circuito a livello mondiale poi visto che la persona sta seduta dentro hanno iniziato ad avvicinarsi anche delle persone che hanno delle difficoltà delle disabilità ed è nato un movimento paralimpico se seduto dentro ha il timone e tutte le manovre davanti quindi se uno sta in carrozzina e porta una protesi come me o ha delle altre difficoltà insomma può correre a darmi pari con qualcuno che non ha questo tipo di problema insomma è nato anche un movimento paralimpico si è arrivati a partecipare alla prima con quella barca non c'erano faceva ancora vela nel 96 ad atlanta tuttora corro con quella ho fatto il quadriennio per arrivare a qualificare non riuscendoci in canada 2014 riuscendoci 2015 a melbourne in australia ho qualificato una nazione ha partecipato a rio e tuttora partecipa al circuito mondiale quindi è corretto dire che la vela è una disciplina estremamente inclusiva da questo punto di vista i circuiti sono open quindi insomma è veramente aperta a tutti o quasi sì è fantastico a parte il tipo di sport quello che dicevo prima l'aria il fatto di dover gestire qualcosa ma chiunque può provare a far vela ci sono delle ci sono delle barche che sono attrezzate addirittura per persone che riescono a muovere solo la testa e con una cannuccia riescono a controllare vele barca parlando della barca con cui corro io abbiamo l'ultimo mondiale ospitato dall'italia è stato a genova nel 2019 eravamo quasi 100 barche io non so se eravamo 15 o 20 disabili ma non non me lo ricordo io non interessa nessuno quando sei in acqua in realtà ti interessa arrivare davanti alla barca che hai la competizione sempre competizione è competizione quindi sì anzi io ricordo il il podio alla fine con la regatta è stata vinta da una ragazza inglese una professionista molto brava che è disabile che ha un delle difficoltà da e argento l'ha fatto un ex finnista finlandese quindi avevi questa ragazza che magari non so peserà 60 kg finnista da 100 kg argento era un simbolo bellissimo proprio perché si può correre assieme indipendentemente da età sesso o difficoltà quindi se inclusione vuol dire fare qualcosa assieme stando assieme divertendosi insomma sì assolutamente la vela è inclusiva parlavo prima di jesolo quindi spieghiamo si può fare vela anche nell'alto adriatico per intenderci sì ci sono diverse realtà con anche barche diverse c'è nel senso che la vela paralimpica oggi si corre con con più barca a parte che vela si può fare anche una persona che va con una barca d'altura che sia disabile o meno è un velista però la la vela agonistica paralimpica si può fare con su tre tipi di barche due sono molto diffuse anche qua in veneto che sono il 2.4 c'è un circuito bello c'è jesolo ospita una regata europea tutti gli anni e poi c'è anche un'altra barca che è più semplice per avvicinare le persone alla vela piuttosto che si può andare in due quindi permette a qualcuno di avvicinarsi anche senza esperienza eventualmente poi si possono iniziare a fare anche regate ed è ci sono diversi circoli che le ospitano c'è questa realtà importante che la conosco bene io che è quella di di esolo uguali uguali nel vento dove ci sono diversi tipi tipi di bar che si può approcciare insomma in modo in modo diverso anche alla vela siamo giunti quasi al termine di questa nostra chiacchierata noi abbiamo ideato queste trasmissioni in collaborazione con il comitato paralimpico perché riteniamo che siano ancora troppo poche le persone diversamente abili che praticano sport nonostante abbiano tutte le caratteristiche per farlo ecco credo che proprio magari dalla vela che è uno sport così inclusivo se vogliamo usare questo termine come ha detto lei possa arrivare questo messaggio a tutti l'invito a mettersi in gioco a provare perché spesso i limiti sono solo quelli che magari ci mettiamo noi stessi ma in realtà gli spazi le possibilità ci sono ma guardi in realtà prima ho raccontato di quando ho iniziato a fare vela io ho trovato questo amico che mi ha convinto a provare la barca perché avevo dei timori lì mi sono accorto che tanti limiti me li stavo ponendo io e che in realtà possiamo provare poi da lì infatti ho iniziato a fare subacquea ho iniziato a sciare con un unico sci provare la vita è una cosa meravigliosa è fantastica le emozioni che ti dà la vela o il piacere che ti dà la vela per me sono incredibili quindi io invito tutti a provare a far vela poi uno è disabile uno no va bene ma facciamo qualcosa assieme divertiamoci stiamo assieme tu magari mi dai una mano a buttare la barca in acqua poi io ti racconto qualcosa di più magari su come si regolano vele però facciamo qualcosa assieme questo inclusivo e la vela è fantastica grazie per essere stato con noi allora ad antonio squizzato ovviamente in bocca al lungo per il futuro grazie grazie anche a tutte le nostre telespettatrici a tutti i nostri telespettatori per averci seguito come sempre l'appuntamento è alla prossima puntata di questo nostro viaggio all'interno del mondo paralimpico arrivederci